Decisiva no fondamentale sì, importante vincerla dove rosso non perderla. Ci sono partite e partite anche se poi la posta in palio in realtà è sempre la stessa. Quella che gioca domani la Fidelisandria a Vibo Valenza tuttavia ha un valore superiore sia per i pugliesi che per i calabresi. Si può non solo aggiungere punti al proprio totalizzatore infatti si può al tempo stesso negare l'opportunità di farlo ad una diretta concorrente. E scontro salvezza quello in programma a Luigi Razza a partire dalle ore 17.30 i Biancazzurri possono e devono esordire con il piede giusto in campionato in questo 2022 dopo la sconfitta casalinga di martedì scorso contro il Sul Tirol che ha azzerato di fatto le possibilità dei Biancazzurri di accedere alla finalissima di Coppa Italia di Lega Pro. Una partita difficile, una partita dove sicuramente troveremo un ambiente non facile però sappiamo, l'abbiamo preparata bene anche se in poco tempo però i ragazzi si sono allenati bene quindi penso che andremo lì per fare una grande gara perché dobbiamo cercare di tenere quanto più possibili squadre sotto per poter arrivare all'obiettivo quanto prima. Non è corretto parlare di rivoluzione totale dell'organico in questa finestra di mercato per la Fidelis ma le novità sono state davvero tante. Bortoletti è l'ultima in entrata in ordine di tempo Bordini e Dini si aggiungono a Di Noia in uscita. Sì sono dei giocatori nuovi però da una parte abbiamo la fortuna che hanno già lavorato insieme, sono stati 4-5 di loro già tutti insieme quindi per noi è un vantaggio. Quindi l'integrazione sta procedendo benissimo alla grande e speriamo solo di andare a fare questo risultato positivo che ci permetterebbe di stare un po' più tranquilli. Non ci sarà Carullo per squalifica sarà assente in panchina per lo stesso motivo. Ginestra toccherà dunque al suo vice Gennaro Di Maio curare il rapporto diretto sul campo con la squadra. Indisponibili anche Benvenga e Tulli, capitolo Covid, i positivi al momento sono due componenti dello staff tecnico e uno della squadra, un altro invece si è appena negativizzato. La Fidelis intanto ha chiuso il 2021 con un solo pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro. Per salvarsi deve categoricamente cambiare registro a partire da domani, occasione da sfruttare contro un avversario alla Livonese che in classifica è messa addirittura peggio. Sicuramente se sta laggiù avrà dei problemi, però fattore campo duro sicuramente perché campo piccolo, loro saranno aggressivi perché cercheranno di fare di tutto per vincere la partita e andarci sopra, però dalla parte nostra noi andremo con uno spirito battagliero a fare la nostra gara e cercare di portare punte a casa perché, ripeto, vogliamo tenere quante più squadre possibili dietro e raggiungere l'obiettivo quanto prima.